Salve, benvenuti nel podcast di Cultura e Cultura, il blog nato nel 2008 che si occupa di film, di libri, di serie tv, di costume, di società. Io sono Maria Iannicello e oggi di cosa vi parlo? Scopritelo dopo la sigla. Oggi vi parlo di un film che si intitola La ruota delle meraviglie ed è diretto da Woody Allen. È un film del 2017 ed è il penultimo film di Woody Allen. Perché ve ne parlo? Ve ne parlo perché l'8 maggio 2020 andrà in onda in prima visione tv su Re 3 alle 21 e 20, quindi in prima serata. E cosa ha di speciale questo film? Premetto che io personalmente ho un debole per Woody Allen. Quasi tutte le sue pellicole mi piacciono, mi sono piaciute. Ma questa in particolare, oltre appunto a Un giorno di pioggia a New York, che pure ho recensito su Cultura e Cultura, Un giorno di pioggia a New York, è il film del 2019, l'ultimo film che è uscito. E dicevo, che cosa rende speciale questo film? Sicuramente le sfumature della luce, i primi piani, le angolazioni e le ampie panoramiche. Rendono, insomma, questo film riuscito. Woody Allen per me è un artista e lo dimostra ancora una volta in questo film, perché sa cogliere con una sola immagine i lati spigolosi dei suoi personaggi. Le parole qui sono importanti, ma non imprescindibili. È l'immagine che conta. E nel cinema di Woody Allen, l'immagine si mette a servizio del contenuto della storia. E' proprio per dimostrarci, quasi sempre, che non esiste buono o cattivo, perché in ogni persona si nasconde il lato ombra che si è schiacciato, appare con conseguenze destabilizzanti per tutti. Come nel più che riuscito Blue Jasmine, anche nella Ruota delle Meraviglie, la frustrazione di una donna l'asse portante. Questa volta, però, Woody Allen trova un'alleata in più, ed è la luce che qui si manifesta in tutta la sua prepotenza. Di fatti, attraverso la luce, il cineasta dà voce, forse come in nessun'altra pellicola antecedente a questa, dà voce a tutte le sfaccettature emozionali. L'amore si tinge di rosso, rendendo armonici i volti, mentre quando l'animo si raffredda, la luce acquisisce le gelide tonalità del blu. E verso il finale, tanto atteso, nel momento in cui la magia sta per finire, i toni cambiano ancora, diventando grigiastri, così come lo stato d'animo della protagonista. Kate Winslet, nella Ruota delle Meraviglie, Kate Winslet, l'attrice protagonista nella Ruota delle Meraviglie, è sua dente e dimostra ancora una volta talento e versatilità. Il suo personaggio, infatti, è in bilico tra emozioni discordanti che non la rendono né buona né cattiva, a prescindere. E veniamo alla trama. Siamo negli anni 50, proprio come in Caffè Society. Caffè Society era ambientato negli anni 30. Qui siamo a Connie Hasland, vichè viva e pittoresca. Ginny, Kate Winslet, fa la cameriera. Frustrata ai limiti della sopportazione, deve fare i conti con la certezza del marito Amti. Lei voleva fare l'attrice, ma si è dovuta rassegnare a recitare la parte, così dice, della cameriera. E poi c'è la figliastra Caroline, che è arrivata all'improvviso e si nasconde dall'ex marito un mafioso con tanto di scagnozzi. La voce narrante è quella del bagnino Mickey, Justin Timberlake, che si rivolge allo spettatore rendendolo parte attiva. E questa è un po' la caratteristica del film. La commedia diventa, come sempre, dramma, anche in questo film, dalle atmosfere teatrali e retro. I temi sono gli stessi delle pellicole precedenti e anche, forse, pure della pellicola successiva, per certi versi. Ma le soluzioni che Allen offre sono diverse. Nel film, una menzione a parte merita il figlioletto di Ginny, che è piromane. Perché questo ragazzino ha la mania di appiccare il fuoco e cosa rappresentano le fiamme se non il desiderio di rendere più passionale un'esistenza arida e priva di brio? O forse, in questa sessione, si nasconde il bisogno atavico di ricevere amore e attenzione? Insomma, c'è molto da osservare in questo lungometraggio. Tanto. Quindi, magari vi potrà apparire un po' lento, sopra le righe, però, se osservate, vedrete tanti particolari. E cerco di non essere di parte. Ritengo, dunque, che La ruota delle meraviglie sia l'ennesima pellicola riuscita di un Woody Allen che non smette di stupirci e che attraverso la macchina da presa compie un altro miracolo, rendendo straordinario l'ordinario. E questa è la caratteristica un po' del cinema di Woody Allen. Ci sono film più belli, film meno belli, però quello che Woody Allen riesce a fare è rendere straordinario l'ordinario. Ci riesce attraverso le musiche, le scenografie, i costumi e, in questo caso, una fotografia magistrale che sorprende. Non sarà il miglior film di Woody Allen, questo qui, La ruota delle meraviglie, ma devo dire che mi ha convinta. E se non riuscite a vederlo, se non l'avete visto su Rai 3, per chi magari sente questo episodio dopo l'8 maggio, penso che potrete trovarlo un pochino in streaming su diverse piattaforme a pagamento. Vi ringrazio e alla prossima.